Il Governo italiano e quindi la Regione Veneto si iniziano ad attrezzare per l'arrivo e la distribuzione dei vaccini anticoronavirus. Le prime dosi dovrebbero essere disponibili tra dicembre e gennaio. Il Ministero della Salute ha chiesto al Veneto una rilevazione circa la possibilità di stoccare i vaccini sia sotto i 60-80 gradi, sia in frigoriferi da 2 a 8 gradi. La Protezione Civile Nazionale ha invece chiesto i numeri del personale sanitario regionale, categoria che verrà vaccinata con priorità, probabilmente col vaccino della Pfizer. Questa è una rilevazione che è partita per tutte le regioni, noi stiamo raccogliendo i dati e quindi forniremo sia al Ministero che alla Protezione Civile naturalmente questi dati. Questo significa che la macchina organizzativa è partita e pertanto insomma via via che avremo informazioni noi avremo la possibilità di organizzarci. Altra questione riguarda il vaccino antinfluenzale, la cui richiesta nell'anno del Covid si è rivelata superiore alle previsioni. L'anno scorso il Veneto aveva acquistato 800.000 dosi, quest'anno sono stati aumentati a 1.320.000, già quasi tutte consegnate, più un'opzione già esercitata su di un ulteriore 20% che però deve ancora arrivare. Secondo le aziende sanitarie interpellate dalla regione per colmare le richieste servono al momento altre 50.000 dosi. Il Ministero della Salute ha detto a tutte le regioni di avere a disposizione del vaccino antinfluenzale proprio per l'utilizzo in età pediatrica dai 6 mesi ai 18 anni. Noi ne abbiamo richiesto 50.000 dosi. Per quanto riguarda invece il vaccino quadrivalente che è quello che si utilizza per tutti i soggetti anche di età superiore abbiamo chiesto all'azienda 80.000 dosi. Fatto salvo che tutti se lo desiderano devono potersi vaccinare, il Ministero individua fasce d'età e di categoria rischio cui deve essere riservata priorità e vaccinazione gratuita. Quest'anno peraltro una circolare ministeriale ha abbassato da 65 a 60 anni la fascia d'età in cui il vaccino antinfluenzale è fortemente consigliato. Abbiamo congelate 30.000 dosi da dare ai farmacisti e li daremo ai primi di dicembre perché con loro abbiamo concordato che speriamo di poterne gliene dare anche di più se il Ministero ce li dovesse dare. Quindi al momento le farmacie non ne hanno a disposizione perché non ce l'è sul mercato.